benvenuti a tutti alla dodicesima parte di super mario galaxy vs ehm cherish me è il mio saluto che metterò nelle parti di super mario 64 eeeh eeeh non so che dire abbiamo 79 stelle ehm eeeh 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 vabbè sapete c'è tutto no questa volta c'è stato lo fare è vabbè 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 vogliamo salvare gioco no non lo voglio salvare gioco ok ok e che faccio che faccio che faccio che faccio controllo la radio ok sono 5 minuti se non è un è giusto wow vabbè 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 paolo mi viene sapevo che c'era qualcosa che non l'ha fatto ma la 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 ok 49 wow E cosa devo dire in queste raccolte qui? Ora sì, sì. Sessantaquattro? Ok. Ok. Wow. Wow. Settanta cinque. Perfetto. Ecco. Perfetto. Perfetto. No! Non volevo farlo schiantaterra. Stupido, stupido, stupido. Mi fai perdere un minuto inutile. Stupido, stupido, stupido. Stupido, 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 stupido. Ok. Finalmente abbiamo fatto anche questa stupida. Allora, mettiamo il timer. Quanto la ovescia? Quanto mettiamo? No. Ok, mettiamo diciotto minuti, va. Salviamo il gioco. Ok. Salviamola. Sponto la rovescia. 0,18. 0,18. Vabbè. Stupido. Questa parte è... Palazzo è giardinventoso. Questa è di precisione. Se non riuscite a prenderle, potete rifare e fare le parti che non vi viene. non riuscite a prenderle. Allora, lo è che chiunque si è. Aggi, non frimare la rovescia. No No Tre Non due Tre Ma almeno fammi prendere il primo No Dai cazzo Oh Sì 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 Oh Cavolo sono morto tre volte No questa parte è da dimenticare Ok Adesso l'ultima Ategnaccio Arrivo E un po' di asciughe O Ategnaccio Ategnaccio Abba Niente Mh salvare il gioco no bene qui dobbiamo prendere 100 monete del giardino pubblico quando noi abbiamo in seguito con il dio solo che è a tempo e però non sono contato sono 150 al monete quindi avete un po' di margine io lascerei perdere quelle sulle passerelle o passi invece qua io le prenderei tutte un po' di margine Grazie a tutti. 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 Ok. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. che non è... No? 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 Dai, no? 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 Ok? Ok? No?